eccoci e bentornati sul mio canale il nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty oggi torniamo a parlare della modalità zombies di call of duty black ops 4 perché ieri sera ragazzi è successo qualcosa veramente di interessantissimo come sempre prima di iniziare vi invito a lasciare un bel mi piace arriviamo a 500 per il prossimo video informativo lo youtuber noaj456 ha ottenuto dalla treyarch un pacco segreto praticamente all'interno di questo package appunto dalla software house che sta lavorando a black ops 4 c'è un importante contenuto una statua la state vedendo ragazzi e come potrete vedere è la statua di odino il re appunto delle divinità norvegesi come mai una statua di un'altra divinità dopo quella che avevamo visto nel post di twitter dove praticamente avevamo scoperto che c'era zeus con il potere del lampo perché tutte queste divinità da una parte ci possono essere appunto quelle greche e dall'altra quelle norvegesi cosa veramente molto ma molto interessante ma andiamo per gradi ovviamente odino fa parte della mitologia norvegese e quindi dobbiamo un attimo capire cosa ha a che fare con black ops 4 se ben vi ricordate però vi faccio vedere subito l'immagine questa divinità l'avevamo vista nel trailer di voyage nuovo contenuto zombies per quanto riguarda black ops 4 mentre alcuni giorni fa la treyarch aveva pubblicato tutta quella scomposizione di immagini che avevamo analizzato che faceva pensare appunto a zeus però perché tutte queste immagini di mitologie completamente diverse da una parte quella greca quindi zeus e dall'altra quella norvegese odino potremmo anche pensare eventualmente nel caso in cui non fosse zeus anche a giove perché il potere del fulmine è praticamente simile quindi verrebbe da pensare alla mitologia romana però tutto questo comunque porta a pensare che sono re di diverse divinità di diverse mitologie e quindi potrebbe far pensare ai diversi poteri quindi al sistema dei perc che troveremo all'interno di black ops 4 quindi del titolo della treyarch perché potremmo trovare quindi i poteri di queste divinità all'interno di black ops 4 zombies questo alla statua attuale potrebbe essere l'unico filo conduttore che mi viene in mente in merito a queste divinità che sta svelando la treyarche perché sono mitologie completamente diverse altra cosa molto interessante oltre a questa statua all'interno del pacco c'era una scritta welcome to the chaos story sono andato a cercare appunto questa cosa online e chaos nella mitologia greca riporta praticamente un miscuglio universale e disordinato della materia che racchiudeva cielo mare e terra il chaos e quindi a quanto pare era una divinità capace di generare la maggior parte dei figli del chaos che poi diventarono divinità e da qui nacque il destino e il fato quindi qualcosa legato praticamente alla creazione e alla nascita delle divinità veramente qualcosa di interessante da parte di treyarche zombie steam appunto su questo poster contenuto oltre alla statua di odino vi darò ovviamente aggiornati nei prossimi giorni sull'evoluzione di questa interessantissima questione qui sotto nei commenti fatemi sapere voi che cosa ne pensate arriviamo a 500 di piace per il prossimo video informativo e noi ci vediamo con tanti nuovi video